buonasera a tutti cari compagni tanti a mia domandato mi mandato un sms che cosa è accaduto oggi ex sala consigliere con presidente del municipio prima di tutto vi ringraziamo per la solidarietà immediatamente voi avete mi mandato chiamato mandato sms eccetera eccetera come un immigrato in questo paese come anche posso dire un colore pelle nera vi informo culturalmente che cosa accade al nostro paese oppure politicamente che cosa noi pensiamo sappiamo forse la cultura e la politica e la nostro pensiere con voi occidentali particolarmente dico i politici del questo paese forse non 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 ha tutto cento per cento uguale siamo estraniti anche dico come un immigrato che vivo questo paese ancora dico come pelle nera perché neanche bianco il presidente entra dentro sala come una aggressività incredibile cioè come lui è forse se lui riusciva di dare me due pugni o i scaffi forse faceva e utilizzato parolacce come la cultura nostra noi accettiamo fino a questo perché comunque presidente mi conosce io conosco lui può essere anche come un amico dopo un conoscenza è entrato da detto ma morta può accadere fino a questo e vedo che può anche cadere questo fino a questo sono accettabile tollerabile che uno incazzato ha dato parolacce ma non sono accettabile che quando è uscito dal sala lui è sfogato che lo so hai litigato con qualcuno hanno venuto per sfogare con un nero può essere ma uscita dalla sala consiglio poi lui chiama alla polizia ai carabinieri a commissaria tutto torpinitarà a costura sentale via san vitale questo no questo un irresponsabilità del un presidente eletto dal popolo dico anche io entrato dentro questa sala con autorizzazione perciò quando è venuto polizia pur controllato documenti ma loro hanno visto c'è tutta autorizzazione perciò loro è andato via però allarme ha messo allarme ha messo cercate anche giustamente anche polizia dell'istato deve identificare le persone loro lavoro non ha nulla contrario ma questa provocazione questo strumento ha dato al presidente del quinto municipio non lo so il partito pd come valuta questa situazione dico bene suo parolacce aggressività io accettato ma può accadere perché non è proprio estranei noi due che uno non conosce un altro conosce perciò può essere anche diciamo un banale esempio anche tribunale di cassazione a italia tante sentenze esiste tra due amici tra due conoscente se danno due parolazze oppure se uno fa ingiuria non è reato c'è questo tipo di sentenza perché può accadere poi così caldo può accadere ma chiamare la polizia per sgomberare comunque attenzione non è che sono entrato illegale c'è autorizzazione anche se fosse abbiamo occupato questa sala il ruolo del presidente non deve chiamare la polizia il ruolo del presidente deve chiamare suoi alleati politici oppure i suoi altri conoscenza politici che comunque conosce a noi e di capire come deve risolvere il problema ma la conforza ordine pubblico un ruolo del presidente noi come neri non abbiamo digerito questo dico chiaro il ruolo del presidente non è un ruolo del presidente non è un ruolo del presidente non è un ruolo di Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.